Queste mele sono buonissime La sua auto è più nuova della mia Mio padre è il più alto della famiglia Il mio compito è migliore del tuo Alessandro è alto come Michele Questa casa è meno cara dell'altra Questa zona è la peggiore della città Questo pranzo è il migliore dell'anno Claudia è la meno bella di tutte Nonna è la cuoca migliore del mondo Le sue lasagne sono buonissime Luca ha i voti più alti della scuola Il mio cane è più vecchio del tuo Questo libro è bello come l'altro La mattina è peggio del pomeriggio Si è preparato benissimo per l'esame Spero che domani vada meglio Per Marco è stata un'ottima vacanza Questo caffè è buonissimo Il treno è arrivato più tardi di ieri Lui è il cantante peggiore in assoluto Questo piatto ha un ottimo sapore La tua casa è alta come la mia Luca è bravissimo a disegnare Il mio quaderno è ordinatissimo La zuppa è meno calda del solito Le campane suonano fortissimo La mattina fa più freddo che la sera Grazie a tutti 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 Grazie a tutti